L'Associazione Combattenti e Reduci Giovanni Messe ha allestito una mostra fotografica in piazza Orsini del Balzo per festeggiare la Repubblica Italiana. Sì, abbiamo voluto ampliare oltre alla mostra questa presenza dei cimeli date da tante famiglie mesagnesi che conservavano il ricordo dei loro cari e quindi l'Associazione li conserva, li tutela in modo da poterli mostrare anche ai giovani, alle nuove generazioni che non hanno probabilmente l'idea del sacrificio dei nostri militari nei due conflitti. Quindi quei cimeli rappresentano per tante famiglie nostre di mesagnesi un ricordo vivo dei loro cari e che hanno voluto donare all'Associazione e noi li mostriamo qui, a parte le armi che sono regolarmente disattivate. È nata dal fatto che ognuno di noi ha un ricordo del nonno, del proprio genitore in casa ed era un ricordo che si limitava, se vogliamo, nella sfera familiare. Noi abbiamo esortato le famiglie a concederci questa opportunità di mostrare alla città, la nostra città, ripeto anche ai giovani, il sacrificio con la loro presenza dei nostri militari nelle due guerre, nei due conflitti, in modo che diventa una cosa pubblica, che sia un forte raccoglitore di testimonianze da demandare e da conservare.